ciao allora sapete che ultimamente sto provando tantissime ciprie e quindi vi parlo anche di questa che ho finito questa è del libro che è la cipria che chiamano è una cipria in polvere libera che chiamano powder libera ok polvere libera questa è la 02 transparent base qui sotto è base qui sotto vedete un attimo perché questa l'ho proprio finita e wow davvero come cipria mi è piaciuta un sacco il tanto perché il fatto che io adoro le ciprie in polvere libera e non ce ne sono tantissime questa è un 15 grammi e costa sui 12 euro è offerta anche a 9,95 ogni tanto mi è piaciuta tanto intanto l'avendo costo più meno che ho riciclato perché lo sto usando ottimo più meno oltretutto e mi piace mi piace tanto mi piace perché basta poco prodotto non colora tanto quindi tranquille che non vi fare macchie di colore basta pochissimo prodotto per opacizzare tutto il viso si può riapplicare durante il giorno nella zona t se per caso si lucida ma davvero un ottimo risultato ha un ottimo inci ed è quasi come le ciprie minerali quindi davvero ottimo inci e il prezzo per la quantità che ha normalmente le ciprie sono 10 grammi questo è un 15 quindi c'è già la differenza di costa di più ma ce n'è di più e si mi piace tanto mi piace tanto non ha siliconi cosa importantissima perché io le ciprie siliconi che le odio e si davvero promossissime anche da sola ti fa appena appena quel leggero colorito però davvero fissa il fondotinta fissa il correttore e non va a far spostare il correttore quindi davvero un ottimo prodotto io questa ve la consiglio questo è il colore 02 transparent base c'è anche il 01 e il 03 quindi tranquillamente più chiaro o più scuro ma sapete che dona appena appena un po' di colore proprio per uniformare l'incarnato quindi non va a colorare da solo davvero un'ottima cipria ve l'ho già letto si ok ve lo ripeto ottima cipria e fatemi sapere se avete provato come si trovate io spesso è stata utile e vi faccio conoscere un ottimo prodotto a un piccolo prezzo un prezzo accessibile al prossimo video ciao